Benvenuti su MyFootballJersey. Andiamo a vedere questa chicca. Questa è la terza maglia di una squadra messicana, il Club Tijuana, scusate la pronuncia. Veramente strepitosa, l'ho trovata, diciamo così, anche se non è una delle squadre più famose, però la maglia per me è bellissima e quindi volevo recensirla. Alla prossima Secondo me la maglia è veramente molto bella. Tutti i particolari che ricordano Call of Duty e l'anniversario dei vent'anni fanno di questa maglia un pezzo, diciamo così, da avere. La qualità è buonissima, il costo lo vedete qui sopra, oltre a essere molto basso, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete tutti i dettagli per ordinare la maglia, trovate i riferimenti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere perché c'è una grande sorpresa anche. Per i nuovi iscritti, con un link che trovate sempre qui sotto, potrete ottenere un coupon da 5 dollari. Quindi cosa aspettate? Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti.